Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella decima puntata della serie Old Stream. Oggi siamo qui con... Sì, su, ciao a tutti. Ma credo che dovete fare una chiamata, no? Tu cominci a registrare. Certo, io sono sempre lo primo, io so. Vabbè, non c'è problema. Quanto avrò, facciamo tempo, quindi fai... Attento, compriamo tutti i campi stasera. Allora, campo 2 lo compriamo. Le chiamate mie quando d'ora? Un par degli anni. Allora, incominciamo dicendo che abbiamo fatto tutte le trattamente, abbiamo concimato tutto il campo. Abbiamo passato il sarchio. Quindi adesso praticamente c'è solo da farlo crescere, quindi... Aspetta, aspetta, che prima guardiamo i prezzi. Ma magari si è usato che cosa... Noi cosa dobbiamo guardare? Essenzialmente la soia... E... E l'avena un po'. Gli occhiamo, eh? Sì. Guardiamo anche un po' l'avena, perché altro non c'è da guardare. Beh, l'avena forse potremmo venderla a 1,565. Questa no, è bassa. Andiamo a vendere, dai. Ormai abbiamo preso il via che ogni puntata andiamo a vendere. Mettiamo tutto su sì e poi prendiamo la GPS. Per chi come me non si trova sempre... Cioè, usa la GPS e gli dà fastidio avere... Cosa ho combinato? Ho aperto Cortana facendo una combinazione strana. Tipo, vedete, avere quella riga qui che dà fastidio. Magari se avete un percorso caricato, averci queste righe qua che vi dà fastidio. Ogni volta dovete andare qui e fare mostrare linee su no, come facevo io prima. Potete lasciare tranquillamente su sì e fare tasto Alt e C e si spegne proprio la GPS. Lo vedete di qua in basso a destra, vedete che si accende e si spegne. Si spegne e spariscono anche i simboli. Ora, se non pistassi lo carro, magari... Ok. Abbiamo detto che vendiamo l'avena. Andiamo a venderla al punto vendita 2, che non so assolutamente dove stia, lo impariamo adesso. 23.000 è qualcosa, noi dovremmo portarne 23.000 precisi, quindi, boh, ci avanzeranno 500 litri dentro il carro. Ed è... Ah, è lo store, è il biogas. Infatti ci avanzano 635 litri. Quello non è il biogas, mi pare tanto di sì. Punto vendita 2, il biogas. Sono abbastanza sicuro. Qua abbiamo la nostra soia. In teoria sì. Sta crescendo, ora vediamo. Vediamo, eh. Ora lo scopriamo. Eccola qua, soia, semi di soia. Quindi per i vegani va benissimo. Anche per i vegetariani. Sto carro mi piace un sacco, è molto in stile tedesco. Molto in stile tedesco. E a me piace... Eh? Polla miseria. Samue, se ho fatto un casino. Che si è scavolato? Tutto. No. Eh, sì. Ma come ci hai fatto? Eh, senti, io mi sono distratto. Eh, sì. Aspetta, aspetta. Ferma, che mi ha reddito da solo. Guarda che bravo che so. Io sono sempre orgoglioso. Ora salire sarà un pochino più complicata la faccenda. Ah, beh, spesso sto giocando il mio rapendatore e manco del suo, eh? Sì, ma non dagli argini di un fiume che sono ritti come a casa del Diaulo. Ma com'è così? Ma era come il suo bene. Ah, troppo che tu... Eh, tu sei la da sfida di guadalma. Sì, sì. Tutti buoni a dire così. Ah, se lo chiede mio... Eh, così lo chiede tu, manco si... Manco si ribaldava, innanzitutto perché lo portavi tu. Se lo mangiavo, lui gli è me detto. Eh, sì. Stavo dicendo qualcosa... Ah, mi piace perché è in stile tedesco, no? Eh, erca miseria! Sto finito di in guadalma e tutto. Anche se non mi piace molto, cioè... Come il best... Come il best moment. Allora, prima sono a sbattere contro un ballo, poi contro un albero, poi contro tutti e due insieme. O sennò quella volta che c'era tipo Elia che c'era tipo... Oh, Elie, che fai? Tipo, arrivo io, mi do un gollo, tipo io monto sopra. C'ho il telescopico, un mese in penna. Eh, era bello anche quando... Oh, io abbassò il tempo. Tenevo il tempo a 60, mentre sto venendo se cambiano le ore, mi abbassa il prezzo, è un casino. Un campo carino a comprare il 12, quanto costa? 12? C'è un anno a comprare mezza mappa. Tu un campo più grande, vai a vedere, eh. Cioè, il campo con la zona più grande. 35.000 euro, sei 36.000 euro. Ma come te 36.000 euro? Di vendita. Ma allora c'è 146.000 euro. So capito, ma di vendita della roba. Ah. Eh. Sì, ma i gambi eri già minuscoli, costa un po' tio. Ma guarda il 9 quanto è bello, costa anche poco. Ma stanno un milione. Do cazzo stanno, non c'è. È quello che farebbe... È quello che comprerebbe, sì, ma poi già farebbe tipo... Poi ci mettere le galline, anzi, le galline. Esatto, esatto, esatto. Esatto, ci siamo capiti. Mettiamo due pollaio, uno con 50 galline e l'altro con 50 galli. Vediamo che succede. Eh, cosa stavo dicendo? Eh, appunto... Ah, il 7 costa 50.000 euro. Ma io prenderei tipo una cosa come il 10 o l'11, sinceramente. Sì, mi l'ha detto ieri sera. 17? Il 10 si sta alle patate. Il 18. E quell'altro mi arrabbiaderà la zucchero. Il 18 cosa c'ha? Eh, il cotone. No, niente. Lo... 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 Comprimo tutti gli campi. La richiesta è nevata a flinile. Ci sta il 32, l'erba lo possiamo tipo... Guarda quanto paga l'intilato. Ma... Tanto poco. Bo... 5,60 in grande richiesta, vedi tu. Il 32, guarda che campo, che campo. Non lo stai dando. Però, erba, gnararlo. Dov'è? Non lo vedo. Dove sono io. Aspetta, che metto un po' di supervelocità. Tieni, mi pare tanto lento sto personaggio stasera. Ok, ora forse è più veloce. Ah, ma quello con tutta la recensione intorno. Eh, me lo ricordo questo, un pianto, eh. Ah, a parte ci... No, no. Eh, mi sembrava di ricordare che avesse tutt'altro. Eh, questo qua è il dici. Io prenderò la recensione. Il 18, qua. Che cazzo è il campo del mezzo? È tutto, è infatti, è tutto... Fare un cazzo. È tutto bistorto, qua. Eh, beh, no. Il 19 sarebbe un bel campo, ma costerà lì la dica. No, beh, 33, 13 mila euro. 37, gruppo assomento. Guarda che sto campo mi piace un sacco a me. Per il fosso. A me anche. Per, per, per pienarci, però. Tipo, una volta c'era un po' diverso la morfologia. Forse c'era un ponticello tra mezzo. Sì, tipo, qua c'era un'entrada, se non sbaglio. E tipo, il fiume, tipo, venia anche un po' qua, una cosa del genere. No, era un po' identico, però qua, tipo, c'era un ponticello. Qua, dove sono io. Eh, questa stessa parla è messa a cazzo, eh, quando sa. Eh, queste ci sono sempre state, ma non si poteva passarci sopra quel trattore, credo neanche adesso. Guarda le papere che sembrano dei, po', dei zattere. Le vedi che camminano tipo dritte una fianco all'altra, con la testa bassa. Ma tipo, lo 5 non deve avere, no, eh? Lo 5, eh, ma... Perché è vicino? No, ma perché se l'abbiamo tutti, tutte le volte sull'old stream prendiamo o il 5, o il 7, o il 2. Sempre quelli prendiamo. Cambiamo. L'8. Eh, ma dobbiamo comprare un bordello di terra. E questo fa date... Il 14. 64 mila euro. Eh. E' caro, però. 64 mila euro. 15. E ci lo... Compriamoci lo 15. 15? Eh, ci vede, compri 6 quarti di... Di zone. Se va a trebbiare? Compriamolo la foresta e facciamo un po' di legno. Compriamo la trebbiare nuova. Sì. Ma con quali soldi? Fammi capire. Pasta che dov'è che vuoi dirvi che si può trebbiare? Nei campi sono ancora verdi. Posso? Dalle 7 alle 8 è venuta notte tutta una botta. Oh. Ma non cresce più sto campo? Beh, faccio divinire il giorno. Oh, oh. Chiapmo zippo. Posso 6 e mezza? Ora vuoi dire che non cresce? Ah, ma c'è ancora uno... Quanti cavolo di stadi c'ha la soia? È tutti i stadi, eh, la soia. Ancora deve crescere. Richiesta elevata, appunto, vendita 2. Ah, il grano. C'è più... Ah, no. Eh, 1.6, guarda che tanto, eh. Guarda la soia, si sta alzando. Trebbia! Ah, c'è la trebbia... Sì, c'è la soia 3.000 e passa. Ce l'abbiamo nel silo sulla soia? 26.000 litri. Molto. Dai, compriamo la trebbia nuova. Ma che porta? 40.000... Ah, no, 400.000 litri. Prendiamo anche la trebbia nuova stasera. Dai, che se va bene così la prendiamo per davvero. No, no, trebbia nuova è difficile. Eh? Trebbia nuova è difficile. Beh, se diamo dentro quella quanto ci danno? Che trebbia te compri? Alexa, quanto fa? 66.000 più il 20% di 66.000? 76.000 più il 20% di 66.000 è uguale a 79.200. Eh, che trebbia vuole? 79.200 più tipo 30, quindi 80, 120 circa, facciamo 110 per essere tranquilli. 110. La lama ce l'abbiamo, no? Ne... 31.000 euro solo di lama. E che trebbia te compri? La classe, quella che hai caricato tu. Ma costa troppo. Eh? Beh, compriamolo qualmente, non me ne frega un cazzo. Ah, a me è un buon cosci, perché effettivamente... Ma costa... Guarda che... Guarda che con i soldi... 100.000 euro perché il prezzo per quella trebbia lì è troppo alto, cioè... Non c'è senso. Eh, ma è classe costa, non è... Beh, c'è 400 cavalli, è porca di... Ma come fa invece 400 cavalli? 450 per le... 450? 450? Eh... Beh, no, 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 le due versioni sono o da 2.95 o da 3.13. Ah, eh, guarda una 3.5 da 2.90 cavalli quando costa. No, l'activa costa 200.000 euro e ce ne ha 3.06. Eh, infatti, guarda la John D, ce ne ha 400 e costa 2.85. La rossa è il match, ce ne ha 3.80 e ne costa 300 e ce la barra da 9 metri pure. Ma perché quando la master shield andrebbe a finire o sulla rotta o su master shield la activa. Eh, quindi prendiamo la classe. Esatto. Eh, come del tipo... Del tipo, se fossi una persona responsabile, sceglierei la rossa. Ma se fossi una persona intelligente, sceglierei la master Ferguson. Ma dato che sono stupido, prendo la classe. Eh, certo. Da parte di scherzi, prendiamo la classe giusto un po' per cambiare. Ruote, Trelleborg o Michelin? Boh, si vedrà. Michelin, già aumenta 4.000 euro il budget. Ci mette la ciai cingoli? No. GPS, certo. E già andiamo a 325. Cosa prendiamo? 2.95 o 3.13? 2.95 ce ne davanço, mi sa, eh. Cosa dici? Sono 14.500 euro in più, eh. Per tutti sti... Combra meno potenti. Eh, infatti. Lexion 5. Tanto campi in salita non ne abbiamo. Cioè uno e lo tre abbiamo in minore arizzontale, quindi al massimo ci ribaltiamo. Quindi in tutto abbiamo detto che sono... Ehm, 327... Alexa, quanto fa 327.000 più 31.000? 327.000 più 328.000 e già è 358.000. 358.000? Ma quando riemo noi? Ci abbiamo ancora il debito noi? Ma teniamo già questa allora. Ma no, ma cambiamolo ogni tanto la roba, se no quando... Forse però sarebbe da prendere primo un campo. Eh, appunto, ero lo stavo per dire. Eh, però no. Andiamo avanti con... Questo cioè... E' nato... Cioè, lo trovo le balle, si fa anche abbastanza presto. Cioè non è che ci vuole un zegolo proprio per farlo, dai. Prendiamo il debito al massimo e compriamo tutte e due. Compriamo tipo il campo... Quattordici. Vado a vedere il quattordici, intanto, che trebbi. Vabbè, mi prende il joystick che mi trovo meglio. Buongiorno cartello. Io ho sempre abituato che qua c'ho lo store. Allora, il quattordici... Eh, c'è il Gran Turco. Giusto per capire. Tra 27 minuti devo partire. Mi fa piacere. Ehm... Il 35 si può comprare? No. Il 13? No, il 13 no. E' tutto... Scurveggiante. Eh, non è che ce ne siano tanti campi belli da prendere. Il 20... No. Il 3? Il 3 caro. Io prenderei tipo... O 10, o 11 e 14. O anche l'i7, ma il 7... E' appunto sempre il solito campo. Il 26 è prendibile. Oggi un day. Nananananananananana... Ma tipo, noi possiamo fare un campo mega enorme di qua, dove sono io? Compriamo sta zona che... Compriamo sta zona che... Quanto costa? Posso prendere questo angolino qua? No. Compriamo sta zona che costa solo 2 milioni e 300 mila. Questa zona non te la fa comprare, perché è bravo. Ha fatto le montagne, quindi non te la fa pagare. Ciao Greco. Ciao Greco. Comunque con il ragazzo ho chiuso, H. Tanto vado solo... Ho chiuso, ho chiuso. Ho chiuso. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. No, dopo aggiornamento ho tutto incasinato tutto, ho cancellato tutto, sarà tutto qua. Ah, stasera non hai fatto aggiornamento tu. Con le ragazze ho chiuso, H. Ah, è stasera. Stasera. Facendo più di me. Vaffanculo. Stasera. Divento frocio. Stasera metto a fare giornalmente, ho andato da con gli occhi, non mi ero poi del prego io, vabbè. Oh, era ora, beh. Divento frocio. Vago Petrini. C'è in puntata? Eh, sì, non ti chiederò. Ciao a tutti. Perché qui è rimasta sta zona mezza sfigatella qua? 3142 si sta ancora alzando, stavo il prezzo. Fermate che te pio un gorbo piano. Non ti devi assacusci tanto. Quanti soldi facciamo con quella roba abbiamo nei silos per adesso? Alexa, quanto fa 25,4 per 3.150? Alexa, quanto fa 25,4 per 3.208? Alexa, eh, bravo. 81.500 euro con quello che abbiamo nei silos. Quando? 81. Che cagata. Eh, oh, eh. Ma qualcuno può darmi il potere di schifare le canzoni. Sì. Fuori dalla puntata, ti do tutto quello che vuoi. Grazie. È detta malissimo. Eh, va, eh, c'è stato di squadra apposta, tu ti stai zitto. Mmm, cosa mi dai? E sto capito, ma tu me li ho sempre incrastato a correre. Teamate, my teammate, one, trrr. Uh, oggi l'abbiamo già mandata. Ah, manda, manda, no. Ah, dai, lo mando. Eh, io andavo a ricordo pure, lo mando. Eh, ogni tanto ci però. Eh, altro giorno l'hai mandato tu mentre lo stai mandando Dan. Vero, tipo, ero lì, ho detto, adesso lo devo mandare, tipo l'hai mandato tu. Non, non si può mandare più di, più di una volta al giorno. Hai visto, Greg, quello che ti ho mandato? Non posso sentirle, no, tipo, io posso sentirle immagini. E c'è Jeremy che fa, alcuni dicono. Alcuni dicono che sia, invece è stico. Ciao. 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 Stavo facendo un guantotto, lo stupido. Sam sei, tipo, lo senti perché prima che doppiarlo, lo senti in inglese, che dice Sam sei, alcuni dicono e ti puttira fuori sempre del stupidato, del tipo alcuni dicono che stai andato più volte su Marte non facendo mai il pieno, tipo, cosa è stupide. Sì, ma lo dicono proprio da, da, da sempre. Dall'inizio. Sì, sì, lo so, lo so. E' come dire, Gianni, ma mi sbaglio, tipo, se trovassimo un'altra New Holland ti ricordi perché c'era nel 15 tipo, ci trovavano Black Edition, come cazzo si chiamavano? Ah, le CR 1099, 98 e 790. Eh, la versione più piccola, quanti cavalli era? Era 790, mi pare, 2,60 circa. Oppure già un altro modello, più piccolo, che c'è sta per farming. Ma le modi non c'è più per farming, ma picciono? Ah, dai, che problema è la maria. Vediamo, dopo lo cerchiamo, dai. Oh, porca ti quella. Non mi mozzo sempre a me. Stai cercando la bici? Io gli dirò posta, no. Ho spento il trattore invece che lampeggiare i fari. Ho spento i fari al posto che lampeggiare i fari. Ma stasera le zanzare mangiavano che era una cosa per... Finta proprio, eh. Beh, io oggi pomeriggio, alle 3, ne ho uccise 4 in camera mia. Ma io... E di notte, 7. Io non sapevo più come fare, oh. Cioè, ti dico. Io adesso, tutto il giorno, tengo il cosino. Accendo i rapid, lì, come si chiama? Quello che attacchi alla corrente. No, io in casa no. Ma fu... Cioè, tipo... Oggi ho fatto un 3, 4... Ho fatto 3 ore e mezza, 4 ore di turno, no? Perché mi ha chiesto per favore, se gli faccio un favore, li ho coprivo, li ho fatti. Ma tipo, dalle 5 e mezza, stare dentro, ti mangiavano le zanzare. Fuori ti mangiavano. Tipo, io prendevo, continuavo a girare, farmi dalla strada al garage, dalla strada al garage, a camminare, perché sennò mi mangiavano. Eh... Io stavo volendo le zanzare, ah. Ma io, per quest'estate, quando c'erano, prendevo, mettevo con il sole di 17 gradi, faccio, ah, vediamo chi muore prima, dai. E ovviamente, vincevo io. Morirebbe in modo... Volo prima, dovremo, vediamo che succede. Oh, tepp. Eh. Come va? Eh, male. Stasera ho rischiato di investire un cane e un gatto. No, nè, non si sa. Oggi c'era, c'era, mentre facevo il turno, c'era sto mio collega che parlava con, tipo, il servizio clienti di Sky, no? Eh, beh, te lo dico perché tu mi hai fatto venire in mente questa cosa e probabilmente a te fa ridere, Samu. C'è armato un pezzo, eh. Eh, bravo. Io lo so, lo so. E tipo fa... Eh, io... Eh, Antonello mi ribalto. Io non mi ricordo né più il pin né la password, né tipo, né il codice utente né la password. Io devo riuscire ad accedere a stabellini di area, di area clienti. Tipo... No, ma fai tranquillo. Eh? Eh, oh, ma se c'è uno stesso di mezzo ce lo fai io? Sì, no, si è pistato tutto, si è pistato. Si è pistato. Eh, si è pistato tutto. Si è scritto. Hai scritto. E detto questo, ragazzi, io vi pisto, vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan. Parla in italiano, parla in italiano. Ciao, no, ci rivediamo. Ci rivediamo. Devi dargli l'enfasi proprio. È tutto. Ciao a tutti. Ciao, ci rivediamo.